Promuovere il consumo di pesce locale, accorciare la filiera e contrastare le importazioni di prodotti ittici dall'estero, inaugurato al porto commerciale Masuccio Salernitano Miglio Zero, struttura di vendita diretta di pescato locale e street food in banchina. È un'iniziativa firmata a Coldiretti, Campagna Amica e Cooperativa di Pescatori Acquamarina. Al Miglio Zero i consumatori potranno acquistare pesce appena pescato direttamente in banchina con una filiera cortissima, ma non solo, prevista anche un'area degustazione ed un centro di raccolto. Dopo la pesca i prodotti infatti saranno selezionati, una parte sarà destinata alla vendita diretta, un'altra ai ristoranti che ne faranno richiesta, un'altra ancora al mercato. Ma diciamo che questa è la soluzione ottimale per tutti quelli che rappresentano il piccolo, le piccole produzioni, la piccola pesca. Se non si completa la filiera ovviamente il piccolo pescatore, la piccola pesca del nostro sud va in difficoltà perché sappiamo benissimo che può avere una giornata, una nottata bellissima, arriva sul molo e poi non sa chi vendere, quindi deve svendere. Una struttura come questa di oggi del Miglio Zero è un modello da seguire, io l'ho appena detto a Vittorio San Giorgio, noi siamo alla vigilia della pubblicazione dei bandi del FEM, quindi 72 milioni per la pesca. Io credo che in ogni porto turistico dobbiamo offrire questa struttura per dare l'opportunità, la possibilità alla piccola pesca di resistere, di esistere e soprattutto di dare un'opportunità ai consumatori di comprare il pesce appena pescato, quasi vivo e io credo fa anche con una possibilità di risparmio perché non ci sono terze persone e che fanno da intermediari tra il pescato e il commercio. Ottomiglio Zero, ecco c'è la possibilità di poter aprire più punti nei diversi porti a tracchi turistici e commerciali della provincia di Salerno? Stamattina noi stiamo inaugurando anche un grandissimo precedente, ovvero che i pescatori hanno deciso di fare un salto in termini di categoria e diventare imprenditori e pertanto nell'istante in cui lasciano il pesce dalle proprie barche e lo mettono in una struttura del genere e chiudendo la filiera di fatto stanno crescendo come categoria e hanno deciso di chiudere la filiera e pertanto di non lasciare il loro destino in mano a qualcun altro. Da questo punto di vista il supporto di Coldiretti va in questa direzione e tutti quelli che vogliono costruire nelle diverse realtà un'iniziativa del genere troveranno la nostra organizzazione pronta a supportarlo così come abbiamo fatto con la cooperativa Acquamarina che è diventato un modello per la città di Salerno e lo presenta addirittura in un momento in cui sta per tagliare il nastro Luigi D'Artista. Questa iniziativa diventa anche un ulteriore attrattore messo a disposizione per la città alla città.